Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, oggi siamo in un nuovo video su Farming Simulator 19 nella mappa Heads of Italy Allora ragazzi, ricordo sempre di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivare la campanellina e lasciare sempre un bel pollicione all'insù Allora ragazzi, l'ultimo gameplay, abbiamo seminato questo campo qui, il 7, ad Avena, che la useremo per i nostri cavalli, l'Avena Abbiamo comprato il campo numero 9, questo qui, e ci abbiamo messo il frumento, ho finito di seminarlo off camera E che altro abbiamo fatto? E basta, questo qua abbiamo fatto Quindi oggi ci andiamo a, come potete vedere, a rimuovere le orbacce E dandoci facciamo sto lavoretto qua Allora ragazzi, avete visto? È uscito un nuovo blog su Farming 22 Ieri E adesso sono state annunciate, ragazzi, ci saranno le produzioni sul nuovo gioco Finalmente E saranno di default, quindi anche tutti i nostri amici di console Finalmente, visto che sono di default, avranno anche loro le produzioni Bellissimo E ci sarà la produzione della farina Ci sarà il caseificio per fare il burro Lo zuccherificio Quattro produzioni sono state annunciate E saranno delle catene Poi se ci riesco, poi ragazzi, vi farò un video al riguardo Comunque sia, sono delle catene commerciali Perché, in pratica, ogni prodotto che si produce Verrà usato, può essere usato in un'altra produzione Per fare cose, che ne so, la farina Ci puoi fare il pane, ma insieme, che ne so, allo zucchero O al burro Insomma, tutti questi ingredienti insieme Ci puoi fare Delle torte Insomma, varie cose così Insomma Quindi Non vedo l'ora che esce Così, adesso la voglio ancora di più Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Allora, qua Forza, siamo quasi Però qua Vabbè Il trattore prima o poi lo vendo, ragazzi Perché Mi dà molto fastidio Il fatto che sterza poco Quindi Ah, abbiamo comprate poi pure le galline Adesso dobbiamo solo fare Fare un po' di Un po' di fieno Così Dobbiamo Anche le Le mucchette Quindi Ragazzi Tornando al fatto Di Farming 22 Queste produzioni qua Non saranno Come le solite Produzioni Che Fino ad ora abbiamo giocato Saranno un po' diverse Quindi Ok E il fatto che Anche Anche per le console Ci saranno da default È una cosa molto bella Finalmente Per Anche Gli amici di console avranno Fin da subito Le produzioni Quindi Allora Andiamo a Disservare Anche il campo 9 Sicuramente Che C'è l'erbaccia Eccolo qua Batte pieno Anche qui È pieno Dai Su Apri Allora Facciamo una cosa Già Ci mettiamo Il course play Quindi Lavoro in campo E Per campo No Quindi Gimassi Lavoro in campo Così noi Facciamo Cos'altro Facciamo Due giri Transi Uno Basta Ok In genera Perfetto Ok Ok Vai Ok Ah Noi intanto Possiamo Dobbiamo andare a farci Perché qua Fare un po' di rifornimento di semi Se non sbaglio Più che semi Vabbè no Non abbiamo più niente Qua dentro Semi e fertilizzanti Quindi Andiamo a Caricare un po' di Di semetti Molte E Ma dove era Il Coso Lo scioppetto Lo scioppetto Lo scioppetto Sta di là Quindi Ok Caricare Così Facciamo Ce li mettiamo da parte Sbagliato strada Da cacchio sto Ora Non è Non è anche qua Gira sotto E ancora Avete imparato Tutte le strade Ragazzi Non me ne ricordo Eccomi Pi 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 Allora Aspettiamo un attimo Sto Deve Recuare Ci faccio Scaricare qua Ah Ma questo Aspetta Quanti ne caricava Non lo ricordate Voi Eh Quanti Mi sa Un paio La volta Non lo ricordo Allora Allora Avertizzante Come si faceva Allora Come si faceva Come si faceva Carica Carica No No L'altro Quindi compriamo Un altro Anzi Compriamo uno Di semi Non mi fa Caricare Cosa Diversi No Dobbiamo caricare Tutti uguali Possiamo caricare Uno diverso Dall'altro Quindi Facciamo un altro Di questi Non ci abito Più una lira E poi facciamo Un altro Viaggio Di semi Facciamo Sotto Ok Perfetto Quindi la porta Il nostro Poggio Succede Poggio Una scorciatoia Potrebbe essere Sì Sotto Bara Scurciatoia Quindi Andiamo Nos Carica Ok se si scarica come aveva abbastanza spazio facciamo così ora abbiamo già trattature allora andiamo sul trattore almeno ci andiamo a buttare ok allora questo è finito bravissimo qua sta tutto a posto usiamo mandavanti il tempo il ragazzo si passava va il pane non è tutto a posto Ufff! Cacchio soffa! Sveglia strada raga eh! Oh! Oh! Alli! Ok! 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 Ok allora Siamo andando al tempo Così Vediamo qua Le prime uova Vediamo un po' Un attimo gli animali Allora le galline va bene I cavalli ci manca la vena Però la vena La trebbiamo Questa a posto Quindi possiamo andare pure a dormire Facciamo passare la giornata Facciamo 1.7 il mattino dopo Così ci andiamo a trebbia Sti gabbetti Non ci abbiamo più una lira Ok Io penso che Il bro sta pronti Metà e metà vedi Ancora no Non ci andiamo Ci svegliamo alle Alle 2 Niente Galline Abbiamo pulito No Perfetto Meno male Ok Ecco qua ragazzi Noi ci prepariamo questo Poi ci facciamo prima la vena E poi ci andiamo a trebbiare Il frumento Ci prepariamo Questo lo facciamo la prossima volta Sono giusto i mezzi Che Poi c'è da rifacciare l'erba Ecco qua La posizione qua Perfetto Allora io Non abbiamo il rimorchio Dobbiamo ricombrarlo Allora Andiamo un po' Allora Andiamo un po' Un attimo Andiamo un po' Questo qua Però questo è da 10.000 Così Troppo poco Anche se non ne facciamo Grosse quantità Di raccolto Noi Però Non mi devo ricordare Quello che Avevo preso l'altra volta E non andava bene Non me lo ricordo Qual era Questa è da 3.000 Addirittura Vediamo la capacità di questo Questo 4.000 Ce l'abbiamo Questo 29.000 La fresca E la fresca Non lo so Oh va Quale Meraviglia Vediamo questo Vediamo questo Vediamo questo Questa è una merda Però Il 19.000 Però Questo Poi Vediamo questo 4.500 Andiamo Verde Vai Vai Porca miseria Hanno stati là Sta allo shop Ragazzi Porca miseria Vabbè Vabbè ragazzi Lo dobbiamo andare a riprendere Sta qua in negozio Eccolo qua Vabbè ragazzi Vi ringrazio Ricordo sempre di iscrivervi Al canale Che è gratuito E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti